Come è andato il weekend? Non c'è male, grazie. Ma niente di particolare. Peter era un tipo fuori dal normale. Buongiorno a tutti! Buongiorno! Che cercava un amore fuori dal normale. Peter Lowe. Rachel. L'altra sera mi sono portato a casa una ragazza. Tutto cominciò con un bacio. Una scatenata. Un bacio fuori dal normale. Ti sei eccitato? Sì. Un bacio che lo fece impazzire. E un sopporto che i nostri momenti d'amore siano interrotti. Bene, 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 bene. E che sconvolse la sua vita. Eccoti qua! Non riesco a immaginarlo un lavoro più schifoso, eh? E sei tu che lo devi fare. Che gli fece aumentare l'appetito. L'appuntamento sarebbe per martedì pomeriggio. Sì, ma vorrei anticiparlo. Un bacio che gli cambiò le abitudini. Ancora prima. E lo fece precipitare in uno stato di stress. Quindi mettiti subito al lavoro! Capito? Che diavolo gli sta succedendo? Non è possibile! Ma Peter Lowe... Peter Lowe! Era innamorato. Amore? Amore. E voleva che tutti lo sapessero. Non rida però, eh? Sono una professionista, non rido mai. Sono un vampiro! Sono un vampiro! Nicolas Cage. Il sole, no! Maria Conchita Alonso. Avanti, sparami! Alba, se non mi spari, io ti licenzo. Non al pavimento, Alba! A me! E Jennifer Beals. Sei proprio patetica. In... Stress da vampiro. A fare cose incredibili. Non la prenderò mai più. Lo giuro. Non la prenderò mai più.